In una lettera scritta il 19 settembre del 1914 a Raffelina Cerase e Padre Pio scrive le seguenti parole Voi mi dite che a causa del vostro spirito sonnolente, distratto, volubile, miserabilissimo, con l'aggiunta molte volte anche dei disturbi fisici non potete resistere e restarvene in chiesa più di un'ora e mezza. Non vi date pena per questo, solo cercate di non darvi occasione Sforzatevi da parte vostra di vincere ogni molestia ed ogni noia e non istancate soverchiamente il vostro spirito con preghiere lunghissime e continuate quando lo spirito e la testa non si prestano. Procurate intanto nel corso del giorno di appartarvi essendovi ciò possibile e nel silenzio del vostro cuore e della solitudine offrite le vostre lodi e le vostre benedizioni il vostro cuore contrito ed umiliato e tutta voi stessa al Padre Celeste e così mentre la bontà del divino sposo viene dimenticata dalla maggior parte delle sue creature fatte a sua immagine, noi ci teniamo con tali evitivi e con tali pratiche sempre a lui vicini Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima!